Ma bonjour studentelli, vi siete tolti i sandali? Male? Perché oggi vi raccontiamo vita, morte e miracoli di Alessandro Magno. Facciamo iniziare questa nocciolina subito! Alessandro III di Macedonia nasce il 20 luglio del 356 a.C. In una città macedone così bella da chiamarsi bella. Suo padre era re Filippo II di Macedonia, mentre sua madre era la principessa Olimpiade. Da parte di padre discendeva dal celebre filosofo Eraclito, da parte di madre invece discendeva da Achille. Insomma, se questo qui fosse venuto su brutto, fallito e scemo sarebbe stato un problema. Mentre suo padre lo istruiva militarmente, Aristotele nutriva il suo cervello con un sacco di supercazzole astrofilmiche. Paparino però divorzia da Olimpiade. Se la spassa un po' in giro e poi sposa la giovane, Cleopatra è uridice. Questo fa incazzare assai Alessandro che scappa con sua madre. Prima a Dodona, poi verso l'Illiria. Re Filippo però riesce a perdonare suo figlio, richiamandolo a casa. Nel 336 a.C. però, Filippo viene assassinato da una delle sue guardie, durante il matrimonio di una delle sue figlie. So problemi perché morto il re si passa al suo erede e costui è Alessandro. E il ragazzo mica scherza! Appena appoggiata la corona in testa, inizia a far cuore ogni singolo individuo desideroso di prendersi il trono. Fatto questo, Alessandro inizia ad espandere i suoi possedimenti. Un anno dopo la morte del padre, era già in marcia verso i Balcani. I Triballi, una popolazione antica che si trovava in quella che ora è la Serbia sudorientale, furono i primi a cadere. Alessandro percorre le rive del Danubio per tre giorni, fino ad incontrare i Geti, alleati dei Triballi, sull'altra sponda del fiume. Il giovane attraversa le acque di notte e li sorprende, costringendoli a ritirarsi. Si torna in Illiria, dove porta la pace dopo numerose rivolte. Come per Tonio Cartonio, inizia a spargersi la fake news che Alessandro sia morto. Non di overdose, ma in battaglia. Questo causa rivolte a Tebe e Atene. Alessandro giunge a Tebe, la rade al suolo e la rende schiava. Si ma anche meno, cioè calmo. Con la vittoria della battaglia del Granico, Alessandro si assicura la parte occidentale e meridionale dell'Asia minore. Rischiò pure di crepare sul serio stavolta, se non fosse stato per il generale Clito il Nero, che gli salvò la vita. Con la battaglia di Isso, invece, Alessandro riesce a liberare tutte le città greche sotto il dominio persiano di Dario III. Il re, quindi, vuole sconfiggere definitivamente i persiani per creare un unico impero galattico. No, un impero macedone. Si mette all'opera e conquista Fenicia, Siria e Egitto. Affronta ancora una volta Dario III, stavolta sul Tigri, avendola meglio. Conquista Babilonia, Susa, Persepoli e Pasargade. Dopo la morte di Dario, ucciso per mano di una sua guardia, Alessandro si prende tutta la Persia. Infine, conquista sia l'Iran che l'India. Ed è adesso che riceve il nome che userà online per giocare a FIFA, Alessandro Magno. Ovvero, Alessandro il Grande. Aveva solo 33 anni. Morì il 10 giugno del 323 a.C. per una malattia paralizzante, che col tempo gli impedì di muoversi, parlare e infine respirare. Fu sepolto vivo per errore. Fu sepolto vivo per errore? Amma mia che angoscia! Vivi tutta la vita conquistando il mondo e non si accorgono se sei vivo o morto. E anche oggi hai imparato qualcosa, eh? Quale sarà la prossima nocciolina? Scrivilo qui sotto con un commento. Bye bye!